Marco Toscano, candidato come Presidente della Regione alla ultima tornata elettorale, ormai le urne sono chiuse da circa una settimana. Qual è il tuo giudizio su queste elezioni? Il giudizio in generale? Siamo scontenti perché ovviamente il vecchio governo è riuscito a ripresentarsi e a vincere le elezioni un'altra volta e quindi per noi è un segno negativo. Per quanto ci riguarda invece è la prima volta che abbiamo partecipato e possiamo essere contenti, non felici perché abbiamo preso 5.000 voti, non felici perché non siamo riusciti ad avere un rappresentante nel Consiglio regionale. Il risultato regionale, quello generale, è dell'1,47%, invece a Pisticci la percentuale è stata molto più alta del 10%, tu questo come te lo spieghi semplicemente perché eri il candidato del posto? Sì, questo ha influito ovviamente, un candidato Presidente dopo 25 anni ha influito sul Comune, però questa percentuale, la stessa quantità di voti si è ripetuta anche a Matera Città, a Potenza e comunque abbiamo preso voti in tutta la Basilicata, questo ci lascia a me sperare per il futuro, vuol dire che il progetto politico, quello di contrastare e di dare un'alternativa al sistema bipolare partitico a cui noi non crediamo più e forse anche altri 5.000 lucani oggi non ci credono più, si hanno votato per sui generis. Un'analisi sul voto, la performance del PDL qui è stata davvero negativa, la più brutta di tutta Italia, qual è la tua analisi di questi risultati in Basilicata? Il PDL ha ripresentato forse lo stesso leader dell'altro di qualche anno fa, quindi magari poteva scegliere una persona nuova per confrontarsi con un sistema vecchio, però evidentemente il centro sinistra in Basilicata è molto radicato, il clientelismo è un sistema feudale che si è instaurato da tanti anni, che non permette la crescita della Basilicata e quindi neanche un rinnovamento in alternativa al centro-sinistra. Ci puoi dire per cortesia qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più in queste elezioni, quella che ti ha soddisfatto di più e quella che invece ti ha deluso di più? Mi ha sorpreso l'emozione di tanta gente dopo i comizi che ho fatti in tutta la Basilicata, tanta gente si è commossa, tanta gente è stanca, solo che non c'è ancora quella forza per reagire a tutto questo. Mi ha deluso il fatto che un'altra volta i Lucani hanno scelto di riconfermare la vecchia governance che non ha fatto miracoli fino adesso e sicuramente o almeno noi speriamo di sì, ma giudicare dagli uomini non penso faccia dei miracoli o farà dei miracoli nei prossimi 5 anni. Questo significa che la Basilicata peggiorerà, diminuirà nella popolazione, tanti giovani saranno costretti a partire e soprattutto non verranno fatte delle scelte mirate alla crescita, allo sviluppo con investimenti a rischio su energie rinnovabili, sul turismo, sull'agricoltura, sulla trasformazione dei prodotti, quello che ho detto in campagna elettorale. Si pensa solo all'assistenzialismo e questo non va bene perché non si può sopravvivere, qui bisogna ritornare a vivere come si viveva negli anni 70-80. Hai parlato di futuro, adesso qual è il compito di Sui Generis dopo le lezioni? Allora adesso proprio fra qualche giorno stiamo per presentare una lista al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari che è un organo consultivo del Ministero per cercare di influenzare un po' le dinamiche della riforma Gelmini che sono catastrofiche per la scuola, quest'anno, quest'estate molti docenti perderanno il posto di lavoro. È una riforma che mira solo a realizzare dei tagli di 7 miliardi in tre anni ma non è una riforma di qualità. E poi Sui Generis l'anno prossimo parteciperà alle scadenze comunali che ci saranno, ad esempio Balvano e a tutte le scadenze comunali che ci saranno da qui nei prossimi anni. Ovviamente il nostro progetto è quello di coordinare tutte le forze civiche delle due province, sia Matera che Potenza e cercare di arrivare più agguerriti, più forti, più competitivi alle prossime scadenze elettorali, provinciali, comunali e ovviamente regionali, ripartendo da 5 mila. L'ottimo risultato di Pisticci però vi invita, diciamo vi obbliga a un impegno su questo territorio, quale sarà? Sì, tanti cittadini della società civile che non hanno neanche mai militato nei partiti ci hanno chiesto e noi lo faremo di partecipare alle prossime competizioni comunali a Pisticci e lo faremo unendo le forze civiche come ho detto prima e Sui Generis sarà sicuramente un riferimento per questi cittadini e per tutti coloro che sono stanchi, sono stufi e che non credono più nel sistema partitico. Loro sono poco fattivi, sono inconcludenti, non riescono a deliberare perché la squadra in maggioranza, sia essa di destra o di sinistra, non riesce a essere coesa e ad essere pragmatica. La comunità ha bisogno di atti pratici e l'indecisione e la litigiosità non permette la deliberazione di atti concreti per la comunità pisticese. Guardate esclusivamente alle liste civiche? Sì, non faremo apparentemente con partiti, questo quasi sicuramente, cercheremo forze della società civile, gente competente anche se non sarà in lista ma decideremo di inserire all'interno delle liste persone oppure non inserire ma dargli delle responsabilità successivamente nel caso dovessimo raggiungere degli obiettivi comunali. Abbiamo bisogno di competenza e quindi per fare ciò bisogna andare al di là delle dinamiche dei partiti. Secondo te il voto che avete avuto è stato un voto di protesta? Non lo so, è stato un voto, può essere stato di protesta oppure qualcuno che ha sposato il progetto oppure qualcuno che ci ha visti giovani, sono tante le motivazioni che spingono al voto perché il voto è un atto intimo, siamo da soli nella cabina elettorale quindi ognuno con la propria coscienza ha votato. Certamente è difficile contrastare queste leadership ormai decennali però noi abbiamo tutto il tempo e la voglia per farlo quindi io assicuro i cittadini, ringrazio tutti coloro che ci hanno votato sia al Comune di Pisticci sia in tutta la regione e assicureremo la nostra presenza sempre più forti, sempre più preparati perché noi siamo abituati a formarci e quindi realizzeremo, magari rispolvereremo un progetto che è il progetto città di Renato Gioia che ha realizzato tanti anni fa per Pisticci, lo adegueremo alle dinamiche moderne e ci presenteremo forti con la voglia di trasformare la comunità pisticese e portarla al livello che gli spetta che non è questo negli ultimi 25 anni. Vi siete interessati invece al Movimento 5 Stelle di Grillo? Noi collaboreremo con loro nel senso che abbiamo già deciso, abbiamo già parlato prima delle elezioni e a livello di coordinamento provinciale ci siederemo e decideremo visto che gli obiettivi più o meno sono comuni e quindi sicuramente nascerà una collaborazione. È chiaro che sui genes mantiene la propria autonomia perché di solito fa una selezione delle persone che militano all'interno della lista, non vogliamo sponsor né partitici né di personaggi internazionali come abbiamo fatto con Allan pure e quindi ognuno nella propria autonomia realizzerà i propri obiettivi magari in coalizione, in un discorso provinciale, sicuramente per la provincia di Matera e Potenza si potrà pensare a una coalizione tra sui genes e 5 Stelle per raggiungere l'obiettivo. Un'ultima domanda sulla situazione generale. Le elezioni di mezzo termine hanno dato per vincente comunque il partito di governo. Secondo te è soltanto perché la sinistra e il centrosinistra ancora non dà una risposta valida? La situazione è eterogenea in Italia. Al nord ha trionfato la Lega come avevamo detto. Quindi noi al sud cercheremo di realizzare con sui genes un'opposizione al metodo Lega. Noi ci proponiamo al sud di creare un'organizzazione politica simile nei metodi ma diversa negli obiettivi. Ho detto che noi vogliamo l'unione tra le regioni però ci dobbiamo preparare al processo federalista. Qualcuno ritiene che i fondi europei non arriveranno più ma invece tanti paesi europei si sono scocciati di regalare soldi al sud Italia così come si è scocciata la Lega dal nord. Dicono che non possiamo lavorare per regalare poi i soldi che al sud vengono spiegati inutilmente con la corruzione, con la disonestà. Quindi il PD sicuramente non sta vivendo il periodo migliore della sua storia. Vendola è l'unico leader secondo noi che ha dimostrato che con la meritocrazia si può vincere battendo anche un sistema partitico. Il centro-destra non ha fatto passi da gigante. È la Lega che li ha fatti. Quindi è un discorso difficile da capire e va valutato di zona in zona. Quindi nord, centro e sud. Al sud ha trionfato in campagna perché io ho vissuto nove anni lì. Ha risolto il problema della spazzatura quindi anche un leader come De Luca non è riuscito a scoffire questa grande collezione. Mentre Vendola è riuscito perché ha dimostrato con le primarie di essere il migliore e i cittadini pugliesi lo hanno legittimato per la seconda volta.